La Commissione oggi ha avuto l'occasione, l'opportunità di sentire i sindaci di Popoli, Concezio Galli, di Castiglione a Casauri, a Biagio Petrilli, accompagnato anche dall'Avvocato Sciambra, quali hanno definito, diciamo, quali sono gli aspetti principali che riguardano i loro comuni, Popoli per esempio, che ha una richiesta di riperimetrazione del SIN e Castiglione a Casauri, invece, che era il luogo dove sorgevano i posti da cui si attingeva l'acqua, i posti Sant'Angelo, che comportavano un canone che veniva riversato al comune di Castiglione a Casauri di 20.000 euro l'anno. E poi tanti aspetti che hanno riguardato il processo, sia nella parte penale, sia la possibilità di costituirsi ancora in sede civile davanti al Tribunale dell'Aquila all'esito dell'ordinanza che scioglierà i dubbi e le eccezioni che sono state sollevate da Edison. Parliamo del processo civile e che potrà riguardare, appunto, gli 11 comuni che si sono costituiti parte civile. Ancora oggi, invece, Edison ci dice che non partecipa a questa commissione d'inchiesta, accampando alcune scuse in merito alle modalità con cui si svolge questa audizione, cosa che, invece, Edison conosce perfettamente, ma noi non demorderemo, con testardaggine andremo avanti, perché riteniamo che gli abruzzesi abbiano bisogno e diritto di risposte, sia sul passato sia sul futuro, cioè su quello che Edison intende fare ancora nei siti che non sono stati bonificati. E poi ancora la notizia che il Ministero sarà presente nella commissione speciale di inchiesta di bussi nella data del 20 di luglio. Parteciperanno con la struttura apicale del servizio bonifica e quella sarà un'occasione per valutare tanti siti, da Piano d'Orta all'area Tremonte e anche la 2A e la 2B e le aree limitrofe, per quello che è riguardato soprattutto l'annullamento ab origine della gara di bonifica di queste aree. Grazie.